ultimo salto poi eventuali spari e adesso parliamone ne parleranno loro tutti eliminati primo e primo Mutazessa Barsin Qatar Gianmarco Tamberi Italia abbraccio tra i due un abbraccio che sa di cosa decidono cosa decidono un abbraccio che sa di poi spiegherò per stanno spiegando le possibilità che sono spareggio o non spareggio, cosa volete fare ragazzi? Parlatevi parlatevi, oro 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 finalmente si lasciano andare oro oro tutte e due, finale apparimento da 2008 Peghino che non prendiamo un oro, non l'aveva vinto Barsin aveva la possibilità di scegliere l'impressione che il più contento dei due a volte si è vera del loro spareggio fosse proprio Gianmarco Tamberi oro oro incredibile mamma mia mamma mia che storia storia sportiva di una valenza incredibile storia umana sì sì soprattutto umana al di là dell'aspetto sportivo perché ah che bello vedere il Medasecaf medaglia di bronzo che va da Gianmarco Tamberi che è unanimemente riconosciuto come un uomo meraviglioso eh si piange mamma mia oro oro grazie a tutti